Ciao, mi chiamo Ferdinando Di Giacomo e sono un medico dell'unità operativa di urologia dell'IRCS-CROB. Nella mia attività quotidiana mi occupo della diagnosi e del trattamento delle patologie urologiche. Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma non abbiamo mai smesso di starvi vicino. Aiutaci nella lotta contro i tumuli. Dona anche tu il 5x1000 alla ricerca sanitaria dell'IRCS-CROB. È semplice e non costa nulla, ma può fare tanto.